Fantastici, forco, forco, fate delle prove anche a casa, la cartolaia ha gettato la spugna. E lui insiste, la corteggia, la corteggia, lei dice, basta, non ne voglio più. Non ne voglio più, lei, non ne voglio più. Bravo, bravissimo, complimenti. Fantastici Maurio, vai. Non sopravvoli, per le tue performance, complimenti. Yeah. Time out, devo andare bene. Eh? Time out, devo andare bene. No, voglio la mia acqua. Bravissimi, bravissimi, ragazzi, vai, vai. Allora, fra poco arrivano i secondi, ce ne sta un'altra, dai. No, però ce ne sta un'altra, dai. Secondini, fatemi vedere. Defatichiamo un attimo, dai. Defatichiamo un po'. Defatichiamo un pochino, dai. No, non, 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 non Grazie a tutti.